Nel corso dell'incontro di oggi abbiamo trattato in particolare i contratti Energy Performance Contract, quindi contratti a controllo del rendimento energetico. Sono contratti di diverso tipo, in particolare il Comune di Modena ha sviluppato attività di tipo diverso che si possono inquadrare più genericamente in questa formula contrattuale. Abbiamo sviluppato contratti Energy Performance nel campo della gestione e manutenzione di impianti tecnologici delle scuole e delle strutture comunali. Nell'ambito dell'informazione che abbiamo portato al seminario di oggi abbiamo anche citato un progetto che stiamo portando avanti come Comune di Modena, si chiama Imagine, cioè Immagina la tua città sostenibile al 2050, è un progetto europeo nel quale Modena è inserita insieme a altri sette partner europei e che propone una visione avanti, una visione al futuro della nostra città come la vorremmo, come la vorremmo ad altissima sostenibilità, quindi una cosiddetta low energy city, cioè una città a bassissimo impatto energetico e a grande livello di sostenibilità in tutti i campi, da quello appunto squisitamente energetico, a quello dei trasporti, a quello della condivisione degli spazi, a quello dello smart, cioè in una città più efficiente, più efficace e molto più vivibile di oggi. È una visione molto proiettata avanti, quindi è una visione che addirittura pensa alla prossima generazione, cioè tra 35 anni i bambini che abbiamo coinvolto nelle nostre scuole saranno adulti e avranno a loro volta dei figli a quell'epoca, quindi è una visione veramente con un salto avanti nel futuro, ma con i piedi molto per terra, cioè come noi conosciamo la città oggi, ma come la vorremmo nel 2050, noi presentiamo qui questo progetto e coinvolgiamo la gente a partecipare al blog.